facile tutt'altro. Finalmente interrotta la striscia negativa delle quattro sconfitte quattro incassate soltanto nell'arco di una settimana la Reier Venezia torna a correre e dedica il successo sulla sorprendente neopromossa Dertona Tortona a Patron Brugnaro vittima di un malore la settimana prima. I piemontesi sono avversari tosti e gli orogranata pur controllando l'inerzia della gara devono faticare non poco per prendere il largo nel punteggio che alla fine del terzo quarto dice più 17 ma è nello spicchio finale di partita che gli ospiti tornano a farsi sentire trascinati dal 26enne americano Jonathan Paul McCura tra le grandi rivelazioni di questa stagione. Il cuore e l'orgoglio lagunari mantengono la Reier avanti nel punteggio e alla fine è 69 a 61. Tanti errori da una parte dall'altra qualche palla persa di troppo ma 18 assist in una partita dal basso punteggio. Questi numeri sono sufficienti per il successo. Il coach dell'Umana Reier Venezia Walter De Raffaele. I limiti di questa squadra li conosciamo è importante nasconderli ma è ancora più importante fare punti senza pensare troppo all'estetica per quanto devo dire a un certo momento della partita tutto il terzo quarto abbiamo giocato una palla canestro di livello soprattutto difensivo con tanto sacrificio da parte di tutti. Credo che oltre al dato che hai dato al di là del gioco di parole che è importante i 18 assist sono un dato ancora più importante e ho in mente anche canestri con tanti passaggi dove non abbiamo realizzato ripeto perché siamo partiti forse con troppa con troppa tensione. Grazie.